Il Pet Rescue è sostanzialmente una struttura che salva i cani e lì anche li rieduca perché molti cani devono essere risocializzati, quindi abbiamo anche un educatore e un addestratore al nostro interno, abbiamo la veterinaria che viene una volta alla settimana e quindi ci occupiamo dei cani a 360 gradi con l'obiettivo di trovare loro una casa. Ciao a tutti, mi chiamo Daniela e sono un'operatrice del Pet Rescue Italia. Per me tre aggettivi molto importanti sono impegnativo, emozionante e gratificante. Adottare un cane è come adottare un bambino, vuol dire prendersi cura e la responsabilità di una vita che dipende da noi in tutto e per tutto. Mi chiamo Anna, faccio parte della meravigliosa famiglia del Pet Rescue Italia Onlus, sono qua da 5 anni. Per me la differenza tra un rifugio e un canile è che in un canile ci sono dei box, ci sono dei cani come ci sono qua, però qua questo è un rifugio, qui si respira amore, per me la differenza è questa. Sono Elisabetta, faccio parte dello staff del Pet Rescue, mi occupo di affiancare la veterinaria. La storia è emozionante che ho un figlio con la sindrome di Asperger che aveva il terrore dei cani e l'ho portato qui e sono riuscita a portare a casa un cane e lo sta aiutando tantissimo.